Come poste italiane noi dopo una lunga storia di 154 anni, ormai negli ultimi anni, in particolare in questo biennio di presenza del nuovo management, abbiamo fatto della digitalizzazione il punto focale per andare incontro a quelli che sono i bisogni dei cittadini e dei clienti. Dato che poste italiane ha 34 milioni di clienti, quindi praticamente tutte le famiglie italiane, ciò che vediamo noi, il nostro osservatorio, è praticamente l'osservatorio dell'Italia. C'è bisogno di semplificazione, di stabilità, c'è bisogno naturalmente di avere una vita più semplice e poter investire tutto quello che noi produciamo. Per questo, quando si parla di stabilità, si parla di una stabilità economica, governativa, istituzionale assolutamente fondamentale per qualsiasi azienda. Parlavamo adesso di poste italiane, ma io gestisco miei aziende private, piccole, medie e grandi, per qualsiasi imprenditore di qualsiasi dimensione, questa è la cosa fondamentale.